Come sono rite a Cosimo Giordano? Si è ingazzato come una bestia quando ha detto quello e ha detto che ora ci viene una volta questa volta gli dice che questa terra non è nata 10 prosciutto e 20 pagnotte di pane se no vanno a terra gli scanno scanno essi scanno pure quella soccola che ci sta insieme ha deciso affatto Stai da terra e immaginato tutto quello che gli sono chiesto ci hanno avuto tre persone per portare la roba al pancino però quando si è arrivato la maggiorità non è rimasta contenta anzi immaginato pure in presuppo i due pagnotte di pane poi la robotta hanno sparito visto e non visto come erano arrivati non li sono visti più li sono chiamati ma non so vedi dalla casa perché il bello è presotto e siamo mangiati buono una volta tante poi dice che i briganti sono cattivi